e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui iniziamo questa nuova serie su steam e si chiama dei pirate plug of the dead c'è un gioco dei pirati online un gioco dei pirati e andiamo subito all'inizio del diciassettesimo secolo i caraibi diventarono dominio pirata sotto la vita di uno ufficiale di un re voodoo kafu i pirati più tenibili di tutti i tempi tra i quali barba nera charles van e john ruckman formarono la flying gang e sconvolsero i mari la spagna diventata più forte sotto il regno di filippo quinto non poteva più ignorare questa situazione il re ordinò ai dati inquisitore di porre fine alla pilateria a tutti i costi 1900 1718 la foto l'inquisitore attacco in assau e altri territori dominati dai pirati e l'anno 1719 john ruckman sopravvistuto alla carneficina intaprese un viaggio a ricerca di la foto bello guarda qui anche la grafica comunque ragazzi qua c'è lo zoom dobbiamo andare dritto come le frecce che ci dicono da qua dobbiamo andare dritto come le frecce che ci dicono da qua la freccia indichiarà qua non so che devo andare da qua o di qua però secondo me dovrei andare dove c'è la freccia blu dobbiamo andare dritto come le frecce che ci dicono da qua dobbiamo andare dritto come le frecce che ci dicono da qua non so che la sostanza non so che cosa un'euro non so che ci dicono da qua S'è chiuso il gioco Ma vediamo Prima su questa scogliera Se no andiamo Sull'altra isola Aspettate un attimo Ok se no non vedo Che punto stiamo Con la registrazione Aspettate un attimo Aspettate un attimo Abbiamo trovato Quattro pezzi d'olio Annaggia Vogliamo andare a vedere La Cosa c'è Quattro pezzi d'olio Quattro pezzi d'olio C'era un'altra Cassa se non era Attorno a quest'isola Ecco là Quattro pezzi d'olio Quattro pezzi d'olio No non è una casa Non scoglio E allora direi di andare Direttamente Direttamente Qui Quattro pezzi d'olio Quattro pezzi d'olio